Douglas Emhoff, marito della vicepresidente Kamala Harris, potrebbe fare la storia se lei dovesse vincere le elezioni presidenziali di novembre diventando il primo first gentleman. Doug, così viene chiamato, sarebbe infatti il primo uomo a ricoprire un ruolo che fino ad oggi è stato riservato alle donne a partire da Martha Washington. Avvocato a Hollywood, Emhoff ha lasciato la sua carriera per seguire la moglie nel gennaio 2021. Il suo ruolo, sebbene meno visibile, è stato fondamentale specialmente durante la pandemia di Covid-19, con visite in 31 stati e un impegno nella lotta contro la disinformazione sui vaccini. A ottobre compirà 60 anni e insieme a Kamala rappresenta una versione più moderna della famiglia presidenziale americana rispetto alla tradizionale coppia Biden. Kamala e Douglas si sono incontrati nel 2013 grazie a un appuntamento al buio organizzato da un'amica e si sono sposati nel 2014.